Il Comune di Lucca ha presentato a Palazzo Orsetti il nuovo osservatorio dei diritti della città di Lucca, uno strumento frutto di un lungo percorso di partecipazione che ha coinvolto numerose associazioni e singoli cittadini. L'iniziativa avrà lo scopo di sostenere la promozione dei diritti individuali e collettivi in ogni persona e aggregazione sociale, senza esclusione alcuna. Servirà a monitorare la reale tutela e la possibile violazione dei diritti all'interno della comunità, maturando non solo capacità di osservazione ma anche di intervento attraverso l'organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione e mettendo a disposizione idonei strumenti di ascolto della voce dei cittadini. Hanno aderito moltissime associazioni alla proposta di realizzare l'osservatorio per i diritti sul nostro territorio. Sono associazioni che si occupano di vari aspetti della vita quotidiana e di vari settori della cittadinanza. Lo spirito è quello di condividere una convinzione. Non è più necessario soltanto elencare i diritti. Questo è fondamentale ma non basta. Dobbiamo anche ispirare ai diritti la pratica sociale. I diritti a cui l'osservatorio farà riferimento sono quelli codificati in tre documenti fondamentali, alla base del lavoro dell'osservatorio stesso. I diritti, quelli riconosciuti nella nostra Costituzione, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e anche nello Statuto del Comune di Lucca. Tre strumenti che appunto mettono i diritti al centro della loro attenzione. L'osservatorio lavorerà in rete e si organizzerà in autonomia al suo interno con un'assemblea, due coordinatori e gruppi di lavoro tematici. Grazie.